Oggi 3 a 0, con almeno tre gol di scarto per passare, ce la metteremo tutta, tutti dall'attacco. Cercando di vincere, faremo un bel gioco e giocare bene. Il risultato è importante ma è importante anche divertirsi il gioco. Vi aspetto un gran match, vi aspetto una grande Coppa Italia. Tutta la mente alla Roma, scusate. A presto. 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 Loicite. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi movimenti per vincere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.